Meglio tenere il cane in casa o all'esterno? Meglio tenere il cane in casa o all'esterno? Dal mio punto di vista io sono abituato che i cani decidono se stare fuori o se stare dentro secondo me è la scelta ideale, migliore logico, ci sono tipologie di cani che magari non amano particolarmente il caldo e magari nei periodi invernali quando il riscaldamento è acceso oppure è acceso il camino e ne risentono un pochettino quindi dobbiamo dare modo a loro di rimanere anche all'esterno qualora lo volessero alcuni cani, magari brachicefali o che hanno difficoltà di respirazione non amano il caldo e alle volte preferiscono stare in ambienti senza riscaldamento o addirittura all'esterno la stessa cosa anche cani di grossa taglia molto grossi preferiscono stare all'esterno non è detto che tutti i cani preferiscano stare all'interno quindi è sempre bene far decidere loro dove stare ovviamente sia il posto all'interno che è il posto all'esterno deve essere il più accogliente possibile quindi un esterno con una cuccia confortevole o inventata e coperta e un interno con un cuscinone specifico per il nostro cane ciao alla prossima da Daniele Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.baoboys.tv potrai fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti